Benvenuti all'Italia. Benvenuti all'Italia. Benvenuti all'Italia. Qui, in tutta l'Italia, c'è la magia in Rovern. Vedre che cosa fare. Oggi, insieme a la famiglia, vi insegnere la cucina della patta. Condividero con voi alcune ricette facile e gustote. E vi daro alcuni segreti per cucinare delle fantastiche cene italiane. Mmm, molto meglio. Così buono, così semplice. So gott, so enkelt. Bli med Flavia til Italia. Inspirasjonsmagasin får du nå hos Rema 1000.